Rendere i quartieri in cui si vive più belli, esteticamente più piacevoli e includere le fasce di persone a rischio. Sono questi due obiettivi, solo apparentemente lontani, di un progetto che ha coinvolto la città di Matera, che ha visto la collaborazione proprio della Fondazione Matera 2019 e della WISP. Per parlarne c'è qui con noi un ospite, oggi lo invito ad entrare, c'è Michele Di Gioia, presidente proprio della WISP Basilicata. Buongiorno e benvenuto. Allora, Open Playful Space, questo è il nome del progetto. Ci spieghi lei, come ci siamo già parlati, come fanno a convivere gli interventi artistici e i giochi, le gare e lo sport? Che cosa è successo a Matera? È successo che abbiamo utilizzato la leva, quella del capitale della cultura, per raccontare la dimensione culturale dello sport. Partendo da un linguaggio semplice, che è quello appunto dei giochi, dello sport, ma dell'arte urbana anche, abbiamo provato a rivedere un po' le logiche della città e immaginare le periferie, il centro della nostra attività. Il linguaggio semplice ci ha favorito la riqualificazione, i giochi, l'attività, la partecipazione sono stati i temi e gli spunti su cui poi la città si è interrogata e nell'arco di un anno e mezzo siamo riusciti a trasformare alcuni luoghi rendendoli riconoscibili e quindi valoriali per i cittadini stessi. Questo è un percorso che abbiamo attivato e che non si ferma sicuramente qui. Stiamo vedendo le immagini, praticamente voi avete reso più belli alcuni luoghi e li avete messi a disposizione, insomma, dei giovani ma anche degli anziani. Lo ricordiamo, la RAI da spazio ai temi, alle buone pratiche del terzo settore, siamo nell'ambito proprio del terzo settore. Qual è stato proprio l'obiettivo, il primo obiettivo di questa iniziativa? L'obiettivo è stato appunto quello di provare a dare ai cittadini voce, voce attraverso soprattutto le attività, le azioni e quindi riconoscendosi nei luoghi perché quello che abbiamo riscontrato era appunto un certo distaccamento da quelli che sono i luoghi e quindi una tendenza a quella che era una direzione univoca dalle periferie verso il centro, la parte nobile della città al centro dei riflettori, mentre i luoghi della città, quelli non battuti, diciamo, e quelli più noti ritornavano quasi ad essere invisibili. Quindi questa dicotomia tra visibile e invisibile ha favorito appunto la percezione nei cittadini stessi e quindi nelle comunità di poter avere invece un valore. Quindi tutti i luoghi avevano lo stesso valore. Ci fa un esempio di quali luoghi per esempio sono stati valorizzati, sono stati coinvolti? Sì, abbiamo lavorato sia su zone centrali che non sono propriamente periferiche ma che sono periferie di fatto, quali il Parco del Castello del Boschetto, Piazza Cesare Finrao e poi invece luoghi semiperiferici come Piazza degli Olmi in cui abbiamo elaborato una serie di azioni che si sono concluse con la riqualificazione artisticamente di un campo di basket, di un playground che quindi ha sintetizzato in sostanza quello che è lo scopo del progetto, cioè l'arte funzionale al gioco e allo sport. Poi lei mi raccontava che il progetto ha coinvolto generazioni diverse, è stato bello far avvicinare giovani e anziani, ma che cosa le hanno detto, come hanno reagito, che cosa vi hanno detto quando è cominciata questa opera? È chiaro che un processo che è stato anche abbastanza complesso, nel senso che far capire quale poteva essere l'invasione tra virgolette dei quartieri, proponendo degli sport anche inusuali e delle attività inusuali, ha necessitato di un coinvolgimento, di una partecipazione, di un dialogo. Questo poi alla fine è stato effettivamente percepito come un valore e quindi la possibilità negli stessi cittadini di rendersi conto e protagonisti di trasformazione sociale. Quali sport avete messo in campo? Questo è curioso da raccontare. Certo, sport della gliss, quindi parliamo di skate, parliamo di parkour, parliamo di arte dello spostamento, giocolerie, arti circensi, una serie di azioni che vanno borderline tra sport e arte e quindi questo ci ha permesso di essere anche originali nella proposta. Quindi un po' di gioco, un po' di arte, un po' di sana competizione, diciamo così, è un progetto che velocemente le chiedo di ricordarlo, va avanti anche per il 2020, è compiuto ma andrà avanti, è così. Certo, perché vogliamo essere pronti a fare qualche attività il 2020, abbiamo già due altre zone della città che saranno coinvolte e quindi questo progetto non si ferma ma anzi segna la strada per il futuro. Bene, grazie a loro in bocca al lupo e sicuramente avremo modo di parlare anche delle altre zone che verranno coinvolte. Te la ringrazio, buona giornata.